ragazzi oggi dobbiamo avere l'offerta raro perché oggi stiamo giocando nella account secondaria perché io voglio completare i rari nel mio account secondaria e ragazzi sapete una cosa tutti i brawler rari quasi pocio rosa in questa account secondaria e mi manca soltanto il primo un altro brawler rari ecco mi manca solo lui guarda che nel mio account ovviamente è un finale ora metto il brawler più forte che ho e che lui vorrei voleva vabbè tu lo volevi ti sei arrabbiato ieri come lo metto perfetto in gelosina l'ho messo l'icona di baby lady scusa giu 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 scusa se ti ho compiato l'immagine guardare questo video siccome io quando siamo in meravigliati e allora cambiatelo dobbiamo v Tokyo mi vaffermi il loro l'va siccome stiamo King pretamiento persone più deboli non vengono mai tuttame ma c'è leggendario no proteggiamo non lo so che non riesce a uscire ma andare e ripartire e ora devi morire oh 8 di vita 8 di vita 8 di vita 8 di vita ragazzi tipo c'è una roba è stato pillare saltatevi a quello super dienco a quello super dienco ok una missione raccogli 15 cubi di energia sai cosa sono i cubi? ah in sopra io metto solo riempire palpita pezzo grosso si può giocare è pezzo grosso eh ovviamente non posso metterlo eh ho capito ma vabbè in aracqua già me la faccio la missione e la faccio comunque anche se stecca mi piace tanto buona ragazzi è una delle mie brulee cosa si avessero? questa si adesso ci trovo no ragazzi all'inizio e la ragazza che l'ho trovata all'inizio avevo bui jesse block e la nuova torna bro sto diventando pro player sto diventando pro player qui vuoi chi è davanti che è davanti oh non è da sì non è da sì non è da sì è di sì sì è di sì è di sì sì è di sì sì è di sì sì Mio! 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 Mi farà la pena! Non è vero! La pagina a poco è il suo di vita! Non è vero! E' vero! Non è vero! Vore! Mio! Mio! Esso! Mio! Mio! Corri via! 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 Ah basta! Non mi aiuto! No! Via! No! No! oh oh non ti spazza avere un decicento non ti spazio falla che sei non lascio parlo niente non filare non filare oh no oh no oh no oh no oh no oh no oh oh 10 minuti adesso metto il timer ok ragazzi non mettere non mettere non mettere più ragazzi si ho capito devi fare l'intelligente però oddio se vinciamo con ok ma sai che nemmeno una tua parola si sentirà nel video se perché perché tu sei così lontano non stai lontano ti puoi far sentire con tutte le tue cose e te vai lontano ma è normale stare lontano ora dite mi ragazzi scrivere nei commenti è normale voler farsi sentire i miei video mettendosi lontano dalla microfono è normale oh 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 sono bravo oh 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 no no non usare no non usare perchè hai rotolato là ha rotolato da solo non c'è la posizione non messa con me come si deve il tasche, magari se le comunque solo cioè... sarà il player che..... Via via vado a lavorare tutti in Google questa cosa c'è una povera potrei metterlo in Google puoi vedere... noo big brain su cos'è che abbiamo il sims? è vero? io non lo clicchi mai ma anche tu metti i sims io sono già qua alla lega di braw si guardi che è per me per lo care della madre non lo dico ma proprio per non scegliere non è si non è che si sta un secondo che cosa dovrebbero fare? mettere i pelini in tutte le modalità ma però era per il giorno grazie per la giornata grazie per la giornata date via perché il servizio.it è chiusa è chiusa e battene via se le gemme è chiusa hai capito? no ma che vuole? ma che vuole? che vuole? che vuole? non è che vuole? no viva Brasile sì l'importante è quello che vuole ma pure scegli con le gemme e vedi scegli 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 recupera sta vita sono vittorio mamma mia ma è stato fighista ragazzi ma vinciamo tutto siamo proprio genix ragazzi scusa guarda per il giro la meta ma non siamo forti proprio dai vincere non c'è il mio ah questo bombardino è più fatto di Hulk Eugenio guarda non sono forti lo vuoi capire ma guarda quanto danno mi fa tutto l'arriza persa me l'ha fatto il bombardino non è vero non è vero aiuto chi l'ha killato bombardino sta killato no basta con il giochetto da 4 salvi rilassi 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 assez patin va bene lo so ma che lo conosco ma che ne ho bisogno? ma sta più rispettando e trovare qui oi dove era? basta da me disconoci vieni a me ho dovuto scegliere, ora mi accetto un camion i camion brawler e mettine uno seio perché è bello l'uno seio no, perché pensavo che mettevi un guardino è una cagata pazzesca e allora perderai no, vinco sempre perché sei lì o due raga ribera la mia pelle oh, no, 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 no ho fatto i passi di 5 oh, non ho neanche accorto dai, spara, perry, mamma che è erita perché è spagnita ho, non mi piace beh, ho, non mi piace io sto recuperando oh, mi piace o no, non mi piace aiuto tanto voi andate che io vieni jess vieni jackie jackie non mi sto proteggendo guardate no jackie raccogli le giorni basta sto questo cannone jackie vieni non combattere jackie jackie steppi tu vai qui e basta steppi guardate 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 ora che due palle ma non attengo ma che cavolo dico ci vediamo un prossimo video ciao